Siamo nella schiara Paganella, che è il cuore, il centro del Trentino. La schiara Paganella è a pochi chilometri da Trento, all'uscita autostradale di San Michele all'Adige, mezzo Lombarda, una montagna che si deve proprio stagliare nel cuore della Valle d'Adige. Siamo con Ruggero Ghezzi, che è il direttore di questa schiara. Ruggero, allora, il simbolo del Trentino è una farfalla, divisa nel parte occidentale e parte orientale, la Paganella al centro. Sì, abbiamo una posizione particolarmente privilegiata. La Paganella poi è favorita anche dalla luminosità, come puoi vedere adesso, sono le 4 di pomeriggio, abbiamo un sole fantastico, si sta benissimo. È vicina all'autostrada, è vicina all'asta del Brennero. Tieni presente che da Verona ci metti un'ora ad arrivare qui, quindi anche il fine settimana o i giornalieri, quindi l'uscita fuori porta, sei in Paganella velocissimamente, in un attimo. Una caratterista importante, voi avete un'offerta che è apprezzata molto in questi ultimi anni, hanno un'offerta, ci sono stati fra i primi, un'offerta dedicata alle famiglie. Sì, guarda, noi puntiamo sulle famiglie in maniera particolare, una destinazione all'alto piano delle Paganella, particolarmente dotata di strutture e infrastrutture per le famiglie e nonché molti servizi. Dalla schiarea, con 4 campi scuola, con 100 maestri di sci, oltre alle lezioni di sci, dall'anno scorso abbiamo voluto dotare i campi scuola di attrezzature per il divertimento per i bambini, slittini, gonfiabile, ciambelle, quindi si vanno in quota a 1200-1400 metri per divertirsi. Ma poi anche i campi scuola in paese, altrettanto forniti. Conosci tu il nostro centro benessere benissimo, ci sei stato, e il centro sportivo. Ecco, quindi venire a fare un fine settimana, una settimana, ma anche una giornata sull'alto piano della Paganella in famiglia, ci si può divertire a 360 gradi, non serve necessariamente andare a sciare, si può andare a visitare la schiarea divertendosi nei campi scuola, nei fan park, oppure rimanere in paese e frequentare il centro sportivo. E questa è una grossa e importante strategica offerta dall'alto piano della Paganella. Maggiore informazione, avete un sito aggiornato e cliccato che? Grazie a tutti.